Dal 26 al 31 maggio torna la gara cicloturistica amatoriale più bella della Sicilia con percorsi fra i nebodi e la tappa cicloturistica sull'Etna. Le iscrizioni alla quarta edizione del Giro della Sicilia e la gara ciclistica amatoriale che quest'anno si terrà dal 26 al 31 maggio sono ufficialmente aperte. Sei giorni alla scoperta dei nebruti con una tappa cicloturistica sull'Etna, cinque tappe, sei prove cronometrate, una prova cicloturistica, 19 comuni siciliani attraversati, 420 chilometri di percorso, 8.000 metri di dislivelli complessivi. Questi sono solo alcuni numeri. Aperte quindi le iscrizioni. Si sono già fatti avanti circa 70 partecipanti da tutto il mondo. Si parte il 26 maggio con la tappa a San Marco d'Aulunzio per i primi 86 chilometri di gara. Seconda tappa il 27 maggio da Floresta, 108 chilometri fino a Brolo. Il 28 maggio invece in programma la scoperta cicloturistica sull'Etna, 81 chilometri. Il 29 maggio la terza tappa con le due prove cronometrate di Sinagra. Giovedì 30 maggio la quarta tappa con la prova cronometrata di Montalbano e Licona, 108 chilometri con un dislivello di 2.000 metri, 38 chilometri di un percorso con 1.035 metri di dislivello.